nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen sia lodato gesù cristo sempre sia lodato bentornati al quinto episodio della storia sacra giuseppe giuseppe in egitto giuseppe giacobbe ebbe dodici figli fra tutti egli prediligeva giuseppe perché più buono di tutti in premio gli aveva comperato una ricca tunica a colori i fratelli erano invidiosi di lui e l'invidia divenne odio quando giuseppe raccontò con semplicità i suoi sogni mi parve che si legassero i covoni nel campo ed ecco vidi il mio covone ergersi e stare dritto mentre i vostri gli facevano corona e si inchinavano al mio e un'altra volta mi sembrava che il sole la luna e undici stelle mi adorassero che significano questi sogni esclamarono i fratelli all'età di 17 anni giuseppe fu mandato da suo padre giacobbe a fare visita ai suoi fratelli che in quel tempo pascolavano i greggi in lontane regioni essi appena lo videro dissero pieni di invidia ecco il sognatore uccidiamolo ma il fratello maggiore si oppose e ottenne che fosse piuttosto buttato in una cisterna vuota lì vicino intanto passarono di là alcuni mercanti che andavano in egitto giuda disse che cosa guadagniamo a uccidere nostro fratello vendiamolo piuttosto alla carovana la proposta piacque e giuseppe spogliato della sua bella tunica fu venduto come schiavo per venti monete intrisa poi la tunica nel sangue di un capretto quegli snaturati la portarono al padre dicendo abbiamo trovato questa veste guarda se è quella di giuseppe giacobbe gettò un grido una belva ha sbranato mio figlio e restò oppresso dal dolore di quanti mali e causa l'invidia giuseppe in egitto giuseppe fu venduto a un grande personaggio della corte reale il quale lo prese a benvolere e gli affidò tutta la casa ma fu accusato ingiustamente e gettato in prigione dio però vegliava su di lui dopo qualche anno il faraone fece un sogno che nessuno gli sapeva spiegare aveva visto uscire dal fiume Nilo sette vacche grosse che venivano divorate da sette vacche magrissime poi aveva visto sette spighe piene che venivano divorate da altrettante spighe vuote e smilze chiamato alla corte giuseppe spiegò così i due sogni dio mostra al re ciò che sta per accadere le sette vacche grasse e le sette spighe piene indicano sette anni di grande abbondanza mentre le vacche magre e le spighe vuote indicano sette anni di terribile carestia il re dovrebbe perciò scegliere un uomo saggio che faccia forti provviste negli anni di abbondanza onde averne in quelli di carestia il consiglio piacque al faraone il quale esclamò dove potremo noi trovare un uomo come questo ripieno dello spirito di dio tu avrai il governo della mia casa e di tutto il mio popolo lo fece vestire di porpora e lo nominò vice re d'egitto come giuseppe aveva predetto agli anni d'abbondanza successero quelli di carestia il popolo affamato chiedeva pane e il faraone diceva a tutti andate da giuseppe allora giuseppe aprì i suoi enormi granai e salvò l'egitto dalla fame i fratelli di giuseppe commisero un grave delitto vendendolo come schiavo ma dio da questo loro male seppe trarre un grande bene sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen